Siamo al momento del premio L'Aquillone, cioè al momento della sfida, della tensone tra poeti. Anche oggi sono in campo due autori molto noti al pubblico dei lettori di poesia, cioè Maurizio Cucchi e Edoardo Sanguinetti. Uno scontro che farà scintilla e per questo preferisco lasciare a fiamma Betti il compito di arbitrarlo. Bene, siamo arrivati alla quarta manche. I due poeti contendenti di oggi, come ha appena finito di dire Claudio Angelini, sono Maurizio Cucchi ed Edoardo Sanguinetti. Allora, prima di tutto passiamo al sorteggio per vedere chi dei due dovrà iniziare per primo a leggere la sua poesia. Allora, abbiamo la lettera C, Maurizio Cucchi, se esce la C inizierà a leggere per primo, la lettera S, quindi se uscirà prima la lettera S inizierà ovviamente Edoardo Sanguinetti. Quindi, il sacchetto è vuoto, allora mettiamo i dadi dentro, ecco, chiudo e estraiamo la lettera. E' uscita la lettera S, quindi inizia per primo a leggere Edoardo Sanguinetti. Ma prima di ascoltare la poesia di Edoardo Sanguinetti, vi voglio leggere il suo curriculum. Come al solito, voi sapete che queste schede sono compilate dagli stessi poeti in gara. Edoardo Sanguinetti è nato a Genova nel 1930, ha insegnato nella Università di Torino e di Salerno e ora è professore di letteratura italiana nella Facoltà di Lettere di Genova. E' autore di romanzi, di testi teatrali, di saggi, di traduzioni dai tragici greci e da Seneca. Il suo primo libro di poesie, Laborintus, apparve nel 1956. Ha raccolto un trentennio del suo lavoro dal 1951 al 1981 nel volume Segnalibro, edito da Feltrinelli. Da ultimo ha pubblicato presso Manni il Novissimum Testamentum e presso Feltrinelli ancora Bis Bidis nell'87. Bene, Edoardo Sanguinetti, se vuole dirci due parole sulla poesia che si accinge a leggere, qual è il titolo, se ha un titolo? E' una poesia senza titolo, ma fa parte di una raccolta che ha per titolo Rise Builder, cioè Immagini di Viaggio, perché compongono una sorta di diario di viaggio, particolarmente in Olandia e in Germania. E questa poesia appunto è ambientata a Berlino, questo spiega anche la presenza di pochi facili vocaboli tedeschi che non mi pare occorra spiegare. Allora iniziamo la lettura. Non saprei scriverla più per te, una lettera infinita, sopra fogli di scuola con rigatura regolare, con fregi a matita rossa e blu, con festoni di cuori e fiori piena di D maiuscole per Du, per Dain, di Führungs sottolineati con forza. Una lettera come quella che spiavamo l'altro giorno in mano a due civivi fanciulletti al piano superiore di un bus 94. Nemmeno se tu fossi quella minuscola pseudavaiana berlinese senza seno, senza reggiseno, che si esibive incautamente per noi, per noi seduti a succhiarci una coppa alla banana sotto una bandierina con la scritta ICE da un gelataio galante che sembra un macellaio. Nemmeno se io fossi quello sceno fauno di mezza età che io sono davvero ormai. Guardami in faccia almeno quando mi taglio i capelli sul balcone che sto lì a torso nudo, nel vivo sole di mezzogiorno, nel vento. Mi sognavo simile a un Hoffman in delirio e sono quasi il sosia di un mediocre comico inglese. Benissimo, ha terminato la lettura Edoardo Sanguinetti, lo ringrazio. Ed ora è il turno di Maurizio Cucchi e passo a leggervi il curriculum di Maurizio Cucchi. Maurizio Cucchi è nato a Milano dove vive il 20 settembre 1945. Ha pubblicato questi libri di poesia, Il Disperso, edito da Mondadori nel 1976, Le Meraviglie dell'acqua, sempre per Mondadori nel 1980, Glenn per l'editore San Marco dei Giustiniani nel 1982, che ha vinto il premio Viareggio 1983, Il Figurante, un'antologia di testi che vanno dal 71 all'85 per Sansoni nell'85, e Donna del Gioco per Mondadori nell'87. Ha inoltre curato un'antologia di poeti dell'Ottocento pubblicata da Garzanti nel 1978 e il Dizionario della Poesia Italiana uscito per Mondadori nel 1983. Ha tradotto testi di Mallarmé, Poe, Prevert, Flaubert, Viglie, De Lille, Adam. Bene, Maurizio Cucchi, se vuole farci anche lei una breve introduzione per spiegarci qual è il tema o l'ispirazione di questa sua lirica che si accinge a leggere e se ha un titolo anche. Ma non c'è molto da dire, perché la poesia è molto breve e credo che ciò di cui si parla sia abbastanza chiaro. Potrei dire che è più o meno una poesia d'amore. Posso solo avvertire che è nominata una via di Milano, via Santa Maria Fulcorina. Il mio risveglio è stato nel tuo nome Sussurrato, è un saluto, un bianco sogno Agnese che ritorni, ombra che passi Figuretta bianca, sottile, che non mi ami Io ti seguo con l'occhio e con la penna Mentre scivoli e c'è la guerra In Santa Maria Fulcorina Sono poco, un adolescente Un angelo, una fantasia Sono un signore che ti pensa e inventa Mite e vile, affettuoso E coltivo la mia mania Benissimo, ha terminato anche il secondo poeta sfidante Allora innanzitutto io ringrazio ancora Per essere intervenuti al nostro gioco lirico Edoardo Sanguinetti e Maurizio Cucchi Mentre invece ricordo ai nostri telespettatori Che sarete proprio voi a decidere Quali dei due poeti passerà al turno successivo Inviandoci le vostre cartoline postali Entro dieci giorni a partire da domenica 12 febbraio Indicando il nome del poeta la cui poesia è stata preferita Non dimenticate di indicare anche ovviamente le vostre generalità L'indirizzo con il vostro recapito telefonico E di precisare la data della trasmissione Le cartoline così compilate Indirizzatele a RAI, Radiotelevisione Italiana Premio L'Aquilone, Casella Postale 6666-00100-Roma Fra tutte le cartoline che ci perverranno Ogni settimana verrà sorteggiato un premio Consistente in un videoregistratore Buona fortuna Grazie a tutti